ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lanciere e come potete vedere oggi torniamo con un nuovo video dedicato alla raccolta tops match attacks 2021 2022 abbiamo da spacchettare un bel multipack da 30 card con all'interno una limited edition e altri 5 pacchetti prima di iniziare questo unboxing come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità che andremo a pubblicare sul canale e schiacciare un bel like al video match attacks 2021 2022 queste card di questa raccolta davvero fantastica andiamo ad aprirci il multipack all'interno 30 card due pacchetti da 12 card più un pacchetto da 6 card e una limited edition edizione oro questa raccolta mi sta facendo divertire davvero tanto tantissimi prodotti tantissime card molto belle da da ricercare le card shield e chrome scudetto le card autografate le card esclusive tutte card fantastiche difficile a trovare e in più a brevissimo stanno per uscire gli aggiornamenti avremo ronaldo con la maglietta del manchester united avremo messi con la maglia del del paris saint germain aspettando poi le novità del 2022 con le match attacks extra che andranno a completare la raccolta a questo punto partiamo col nostro unboxing iniziamo con i pacchetti del multipack pacchetto numero uno andiamo a vedere chi troviamo iniziamo con stones zuma marcolino verratti la card di pedri del barcellona raul albiola poi abbiamo in asio anthony dell'ajax correa per l'atletico e per le card speciali abbiamo gol machine henry kane abbiamo la card autografata di alfonso davis l'acento club di kevin de bruin che per me è doppia e abbiamo un maestro e apprendista capoe e ciocuzzi per il via real secondo pacchetto del multipack vediamo chi troviamo fabinio il liverpool neymar la card base di neymar ottimo colpo lo stemma dell'ipsia lo stemma dello sporting jan usai per la real sociedad brozovic per l'inter stemma del milan tre stemmi in questo pacchetto blind all'ajax e poi per la real sociedad midfield masterclass david silva per il benfica la goal machine di seferovic una card heritage è quella di albrighton dell'ajax e una card maestro e apprendista henderson and jones pacchetto limited andiamo a vedere chi troviamo card codice abbiamo davide calabria johan jordan la card di giovanni reina il borussia stemma del liverpool rodri city e poi vediamo insieme la card goal machine di karim benzema e la limited edition numero 13 e declan rice a questo punto andrei ad aprire i cinque pacchetti che ho a disposizione gli altri cinque e vediamo di trovare qualcosa di interessante abbiamo ante rebic grande inizio di stagione per lui carrasco capitano della real sociedad di aramendi il papu gomez al sevilla raffael guerrero kyle walker tuan zabe la card autografo di phil foden poi abbiamo defensive warriors abbiamo la pro elite di kevin de bruin che bella card e master and apprentice e benzema e rodrigo ma il colpo del pacchetto eccolo qua kevin de bruin pro elite la shield scudetto bellissima la mettiamo qui ottima card a questo punto andrei avanti e vediamo oh ragazzi 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 ho intravisto qualcosa di interessante abbiamo fredericks westem mandy otamendi reguillon del tottenham in asio per lo sporting per il real betis lo stemma abbiamo nianzu e poi per le card speciali goal machine e isaac lo svedese della real sociedad eccola la eccola la oltre al super saver bravo abbiamo la pro elite pro elite master e apprentice sabitzer zobolai ma eccola qua la pro elite di declan rice abbiamo fatto un doppio colpo per declan rice abbiamo la limited numero 13 e la pro elite la shield scudetto di declan rice la mettiamo vicino a de bruin siamo a quota 3 per me quota 3 shield su 16 avevo trovato già lo scudetto di foden andiamo avanti andiamo avanti zuma già l'abbiamo trovato cufal questo è il doppio coutinho al barcellona valverde federico del real del real madrid bono il portiere del seviglia pepe capitano del porto portiere del milan magnan gravenberg dell'ajax poi card speciali abbiamo kevin de bruin abbiamo trovato anche midfield masterclass per de bruin super saver keylor navas abbiamo un'altra card heritage van de bick doppia per me next gen tino angiorin del celsi giovane del celsi pacchetto numero 4 andiamo a vedere che troviamo abbiamo coche capitano dell'atletico lucas hernandez goncaiev goncalves dello sporting per il real betis abbiamo sidney angel di maria daos del borussia meson mount per il celsi diop west ham capitano casper smichael quanto è bella questa card super saver claudio bravo goal machine isaq l'abbiamo già trovato e maestro e apprendista Henderson & Jones anche questa l'abbiamo vista proprio un paio di pacchetti fa ultimo pacchetto abbiamo thomas lester il portiere del borussia burki sidney già l'abbiamo trovato gulaxi portiere del salisburgo cristiano cristiano ronaldo base cristiano ronaldo base mi mancava questa l'abbiamo trovato gollini ancora all'atlanta in questa in questa card lo stemma dell'atletico poi abbiamo per le speciali per tottenham goal machine ericene anche questa è doppia abbiamo la card autografo di alfonso davis mi piace questa mi piace questa mi piace questa mi piace la chrome di zlatan ibraimovic intanto abbiamo anche man of the match gialluca mancini doppia ma guardate qua bellissima bellissima la card di ibra la tops chrome davvero lucente cinque pacchetti abbiamo trovato una card chrome due pro elite abbiamo trovato cristiano ronaldo insomma un po' di doppie però però non è andata assolutamente male ma quanto sono belle queste card quanto sono belle sono davvero bellissime cristiano ronaldo versione base ma soprattutto le due card scudetto di declan rice e kevin de bruin ragazzi questo spacchettamento termina qua se il video vi è piaciuto come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che andrò a pubblicare e schiacciare un bel like al video e con questa bellissima card di slatan ibramimovic chrome vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao